Per dentro la Franciacorta ci troviamo nella sala consigliare del Comune di Iseo. Abbiamo appena seguito la conferenza stampa di presentazione di Iseo Fosport 2021. Assessore, tra le novità di quest'anno, il raddoppio delle date e lo sport in acqua. Sì, abbiamo deciso, nonostante il Covid, di raddoppiare. Questa è la terza edizione di Iseo Fosport, quello normale, ossia quello tradizionale, che facciamo la domenica e che faremo anche quest'anno, il 5 di settembre, domenica 5, dalle 10.30 alle 18, presso l'ex parcheggio Ex-Cral, dove ci saranno in vetrina le varie attività sportive nostre e anche quelle non nostre, ma che comunque gravitano sul nostro territorio e fanno attività sul nostro territorio. La cosa più importante, a quale io personalmente non solo ci teniamo come amministrazione, è il convegno che faremo alle 11.30 presso la sede della banda, che si trova sempre nel parcheggio Ex-Cral, perciò ringraziamo anche la banda cittadina per averci dato gratuitamente la sede, come ringraziamo anche l'oratorio che ci lascerà il campo sportivo per fare attività, ovviamente, inerenti al campo sportivo, calcio, eccetera. Tornando alla cosa più importante, il convegno delle ore 11.30, che si intitola Vivere con la sindrome di Rett, che è questa patologia neurodegenerativa, che colpisce soprattutto le bambine dagli occhi belli o le principesse guerriere, come vengono chiamate. Diamo spazio alle testimonianze delle famiglie, ci sarà una psicologa che parlerà di questa patologia e noi siamo contenti perché crediamo che lo sport sia fondamentale per dare lo spazio anche a quello che è la solidarietà e comunque aiutare gli altri anche sotto questo punto di vista. Ringraziamo davvero tutte le associazioni sportive, vi aspettiamo ovviamente per quanto riguarda domenica con il Green Pass, perché ci sarà un'entrata e un'uscita con il Green Pass, mentre per quanto riguarda la novità assoluta di quest'anno, che è il Seofo Sport H2O. Questo sarà presso il Lido Sassabanecche, che ringraziamo soprattutto l'amministratore delegato, il dottor Brenca e tutto lo staff di Sassabanecche che ci ha aiutato nell'organizzazione, dove sabato 4 settembre pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18, ci sarà una vetrina dedicata agli sport d'acqua, perché ci teniamo molto a dare uno spazio personale, uno spazio importante, evidenziare gli sport d'acqua e quanto riguarda il nostro bellissimo lago. All'interno di questo spazio ci saremo accompagnati anche da un torneo di pallanuoto, una cosa nuova, fatta nel lago, alla quale noi abbiamo aderito volentieri e faremo una parte del loro percorso di torneo che durerà due giorni, sabato e domenica, insieme a noi. Sarà un torneo tra squadre di pallanuoto di Serie A1 e Serie A2, un 7 contro 7 in un campo appositamente portato da Follonica, dal Comune di Follonica, e ringraziamo gli organizzatori, il signor Binki e praticamente ringraziamo tutti quelli che verranno a trovarci. Comunque vi aspettiamo sabato al Lido Sassabanec e domenica qui nell'ex parcheggio Kral, qui a Iseo. Con la partecipazione di Airet e di tutti in Acqua Onlus, lo sport è davvero per tutti. Sì, noi ci teniamo tantissimo, tutti Acqua Onlus ha proprio la struttura Sassabanec appena inaugurata da poco, perciò tutti la potranno vedere e potranno davvero capire cosa vuol dire superare le barriere, perché praticamente i disabili possono entrare e uscire dall'acqua grazie a questa struttura. E poi la domenica c'è la sindrome di Rett, che quest'anno è la nostra protagonista insieme agli sport, ma è la regina della nostra manifestazione insieme a quella del sabato di tutti Acqua Onlus. Signor Lionello, vivere e convivere con la sindrome di Rett? Vivere e convivere con la sindrome di Rett vuol dire affrontare quotidianamente una patologia neurologica che colpisce prettamente il mondo femminile per ragioni di cromosomi e supportati molto attivamente da un'associazione che si chiama Airet e supporta le famiglie, raccoglie le famiglie a livello nazionale dando delle linee guida sulla riabilitazione e delle linee guida sull'affrontare il quotidiano, sia per quanto riguarda la scuola o l'affrontare qualsiasi tipo di riabilitazione dal punto di vista neurologico, dal punto di vista della comunicazione aumentativa alternativa, del potenziamento cognitivo. Questo è un po' il lavoro che Airet da 30 anni a questa parte riesce a fare raccogliendo, ha fatto il comune alle famiglie in tutta Italia. Sindrome di Rett, protagonista quest'anno di Iseo for Sport. Cosa può fare lo sport? Lo sport in questo caso, visto che la patologia impedisce a queste bambine di fare qualsiasi tipo di attività sportiva, può fare come veicolo di informazione, come fa in questo caso, per poter promuovere qualsiasi tipo di attività che possa sostenere le attività che quotidianamente fa l'associazione Airet nel centro di Verona, che è un centro specializzato per la riabilitazione a 360 gradi sulla sindrome di Rett dal punto di vista cognitivo e motorio. Riccardo Ambrosi, quest'anno Iseo for Sport è davvero per tutti, l'associazione Airet e tutti in acqua onlus. Sì, sono contenta anche per dare la possibilità appunto a questa associazione di far conoscere questa patologia perché hai molti sconosciuta e quindi che ci sia questa collaborazione. Quindi mi piace anche l'idea di far sì che tutti in acqua onlus si possa presentare nella giornata appunto che l'assessore ha chiamato H2O per tutti gli sport acquatici, che non è una divisione con gli altri sport assolutamente, però è un modo per dare più tempo a disposizione e quindi svolgersi sul lago nel centro sportivo di Sassabanec e poi il giorno dopo per gli sport diciamo di terra. Quindi sono contenta, spero che venga tanta gente, ci sarà la possibilità di provare le canoe, eventualmente la barca vela non so se sarà accessibile ma vedremo con quello che c'è a disposizione con gli istruttori, fare il bagno nell'acqua, non lo so se ci sarà il tempo che ce lo concede, perché no e quindi dare la possibilità e far vedere che anche le persone disabili possono entrare nel lago senza nessuna difficoltà. C'è questa passerella in legno accessibile, donata e installata dalla Fondazione Nulli, c'è questo sollevatore idraulico donato e installato da questo imprenditore della Mediberg di Calcinate, c'è la TLS che ci dà un aiuto importantissimo in tutte queste cose e è sempre a disposizione per aiutarci con tutte le persone disabili. Parliamo di disabilità sia motoria che sensoriale, quindi siamo aperti a tutti perché a me piace sempre dire che lo sport è di tutti, quindi vi aspettiamo numerosi sabato ma anche domenica perché ci sarà questo importante convegno su questa sindrome di rette e quindi è importante che la gente conosca anche tutte queste situazioni che ci sono tra le varie famiglie. Hai accennato appunto alla passerella e al sollevatore idraulico inaugurati poco fa, è giunto allora e forse questo è il momento giusto per farli conoscere davvero a tutti. Sì perché io dico sempre che la comunicazione è importante, infatti un ringraziamento va anche a voi che ci date in modo possibilità di esprimerci oltre che al Comune ovviamente, al Sindaco, all'Assessore, allo Sport, tutta l'amministrazione ma voi che lo comunicate perché se non ci foste voi la gente tante volte quando io dico che vado in Canova, vado di qua, mi chiede ma come fai, come fai a scendere, cioè mi chiede queste informazioni quindi assolutamente farlo sapere, far girare queste informazioni è basilare e mi fa piacere anche far vedere quello che abbiamo fatto da quattro anni a questa parte, non è stato semplice soprattutto a livello di permessi ma io sono una testa dura anche quelli che lavorano con me e quindi ce l'abbiamo fatta e abbiamo anche avuto tanta gente che ci ha aiutato perché comunque quando vai a chiedere le cose e le finalità sono queste la gente ti aiuta quindi è importante comunicarlo, è importante farlo conoscere io spero che sia l'inizio di un nuovo percorso per che si allarghi e dar modo di avere più gente possibile che possa frequentare il nostro lago che è un bellissimo lago, un lago facile, semplice e che ci si possa godere poi non dico che bisogna fare sport a livello internazionale, paralimpico o quant'altro se viene ben venga, non sono qua a dire però a me interessa che i ragazzi che hanno problematiche riescano a uscire da casa e riescano a farsi la giornata insieme agli amici, alle famiglie, insieme a noi e a godersela e un mezzo per farlo è proprio lo sport a godersela e un mezzo per farlo è un po'